ciao a tutti ragazzi bentornati su questo nuovo video oggi siamo ancora con le ricommesse del food champions però prima di tutto vi ricordo che questo sabato sarà ancora online per streamare il food champions dalle 13 e 30 poi vi ricordo anche potete lasciare il vostro nickname sotto nei commenti oppure scrivete direttamente su instagram che trovate il link in sotto il nome in basso a destra e potete scriverlo direttamente sulla chat di instagram il vostro contatto psn in modo tale che possiamo fare lo share play e condividere i vostri premi del food champions oggi c'è stata una persona che dopo ringrazierò tanto che ha voluto farsi aprire i premi del food champions anche a lui questa settimana come le altre settimane sono arrivato argento 1 le altre settimane l'altra settimana sono arrivato argento 1 vedo che ci sono delle difficoltà ingranare su questo fifa non riesco ad alzarmi di livello però non riesco a fare bene come l'anno scorso dovevo prenderci ancora un po la mano con la difesa perché un po sono un po un buco e quindi mi sfondano un po troppo facilmente però vabbè ci riproveremo food champions magari provo anche a modificare la formazione che magari con 4 4 2 non riesco a giocare completamente bene argento 1 i soliti premi scelta giocatore oro premium maxi dove non trovo un cazzo pacchetto mega dove non trovo un cazzo 20 mila crediti e i 2000 punti per la qualifica della settimana prossima partiamo col player pick anche se questa settimana il il team of the week fa piuttosto schifo quindi non so cosa potrei trovare appunto sono indeciso tra lo schifo vabbè ovvero più alto lasciamo perdere benissimo finita questa cosa inutile passiamo a iscriverci al prossimo food champions visto che sono qui qualifiche riscatta ora bene le madonne sono state riscattate pacchetti vi ricordo che io non apri pacchetti delle raivas perché prendo solo i crediti se no rimango povero a vita partiamo con con pacchetto mega che di solito è quello che si trova meno meno che sia un mega raro però non si dovrebbe trovare nulla perlomeno uh bandierine bandierine non è vero per presa per il culo mi è sembrato a me sono un incoglionito bello 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 mi è sembrato una luce in più prima però quanto pare ho sbagliato spinazzola grandissimo giocava l'atalanta troppo forte spinazzola la juve non ha fatto mai giocare ma perché non capiscono un cazzo questo non mi interessa allenatore japan allenatore cina olanda ma anche meno 3000 crediti aspita allora si che si vola addirittura doppi riscattiamo si 3000 crediti completamente inutili andate a fanculo questi bene passiamo al prossimo pacchetto dove ci soddisferà con un bel niente come quello di prima van dyke portami fortuna bandiere questa volta cdc liverpool che fa bigno 85 no peggio ancora ender fabbigno tanto è brasile ma che cazzo dico figa sto andando fuori di testa stamattina non è giornata ragazzi veramente cazzo fabbigno e inghilterra dico cazzo brasile dove ho visto il libro vabbò troppo scemo stamattina wow che grandi calciatori utili tutti per le sbc cazzo neanche uno doppio bene ragazzi dopo questo passiamo sull'altro account di stefano che ci ha permesso di entrare per aprire i premi del suo food champions eccoci ragazzi sull'account di tedelfo 96 il ragazzo che ci ha lasciato il suo account sotto in descrizione quindi oggi gli aprirò i premi del food champions e anche qui in diretta telefonica con me non so se riuscirete a sentirlo perché lontano dal microfono il microfono regista il cazzo che vuole quindi partiamo subito con le sue ricompense se sto aprendo sei agitato lui oro 2 lui si è ambientato benissimo in questo nuovo fifa primo food champions lo vedo piuttosto buono molto buono lui ha due giocatori a scelta su quattro un pacchetto oro rari due pacchetti rari due mega pacchetti rari 45.000 crediti lui si che ci guadagna cazzo mica come me forse è meglio allora ha preso un sacco di fansergio quanti cazzo ne ha presi 30 dai cazzo vabbè gli porterà un fortuna nel dubbio partiamo col primo da quattro harry kane sculato come sto cazzo davvero si però io gli prendo magghina 91 oh si cazzo che culo grande ste almeno metti il titolo dio caro ho trovato cane ho trovato dio adesso mi banneranno l'account secondo è purtroppo secondo hai una scelta molto bassa perché hai alan kardek yang su cano malinoski siccome dell'atalanta ti cucchi malinoski perché tanto è anche quello di over il più alto forza atalanta sempre per sempre vinceremo la champions recupereremo tutte le partite ve lo dico io ve lo dico io vinceremo col city buono 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 vedi pacchetti andiamo con i suoi mega pacchetti Cosa vuoi partire? Mega raro, mega raro, oro rari. Oro rari, si parte con oro rari ragazzi, ha deciso. Ha deciso, ha deciso. Attenzione. Cosa potrà mai essere? Non arriviamo neanche in fondo al tunnel, coa test, non male. Buono. Meglio oro tre. Sì, oro tre secondo me è il livello migliore. Più vai su più lo prendi nel culo. A parte che hai trovato Harry Kane, hai trovato la divisa del Real Madrid. Puoi metterla in vendita, magari la compro quella del Real Madrid. Campionato allenatore MLS te lo scarto? Sì, non te ne fai niente. Nakajima doppio, però 90 di velocità. Te lo mando in lista di trasferimenti. Molto probabilmente lo venderai, 90 di velocità. Non conta un cazzo essere forti, conta essere veloci. Pacchetto mega raro, a destra o a sinistra? Destra. Destra. A mega raro di solito si trova sempre qualcosa. Sì. Eh, workout. Non workout, workout. Spagna. Difensore centrale. Barcellona. Piccheton. Davvero? Sì. Peccato che vale tipo 20.000 mi pare. Fì, un palo a 56 di velocità. Però 88. Poi è aumentato. L'ultima volta mi collocherò intorno ai 20.000. Hernández dietro. 84. Poi vabbè gli altri. Guarda che non è andato malaccio. No, no, anzi. Però se ti usciva Real Madrid ti prendevo a schiaffo in faccia. Perché dopo che hai trovato quell'altro, hai trovato Son, Palate, Doppi, Lacombe e Muslera. Te l'invii in lista trasferimenti. Figa, che culo. Se trovavo anche Sergio Ramos ero a piedi io. Fì. Io trovo le cose da 20k e basta. Attenzione, secondo pacchetto. Non è workout, non è workout. Si ferma a metà. Paulsen. Non è sempre mercoledì, Stefano. Perché deve essere sempre domenica. Oggi è mercoledì. Anche se è giovedì. Però era più bello dire mercoledì. Ho un disorientamento oggi. Spazio-tempo che fa paura. Hai trovato anche tu Spinazzola. Anch'io ho trovato prima Spinazzola. Non l'hai visto. Vabbè. Magari avessi trovato Pelé. No. La maglia dell'Atalanta hai trovato. Te l'ha imposto come maglia principale. No, buttola via. Cosa? No, col cazzo che te la butto via. Te la conservi. Te l'hai trovato 4 maglie. 3 te le ho scartate. 2 te le ho tenute. Perché l'Atalanta si tiene sempre. Bene ragazzi. Queste ricompense del Food Champion sono terminate. Vi ricordo come all'inizio di seguirmi su Twitch il sabato pomeriggio dalle 13.30 che streamerò. Vi ricordo se volete condividere come questo ragazzo il suo account per farvi aprire i pacchetti del Food Champion. Potete scriverlo benissimo nei commenti. Ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo settimana prossima con le prossime ricompense. Bella!